Dopo quella sanitaria e già emergenza economica e sociale, nonostante la prima non sia ancora terminata, sono sempre più le famiglie in difficoltà prive della liquidità necessaria a far fronte ai bisogni primari. Vista la difficile situazione attuale che ha colpito anche tanti fanesi, l'ente carnevalesca ha deciso di scendere in campo e di dare il proprio contributo. Circa 15 giorni fa abbiamo fatto un consiglio su Zoom ovviamente da remoto e abbiamo deliberato di donare 2.000 euro a un conto corrente che l'assessorato ai servizi sociali ha aperto per aiutare le famiglie in difficoltà della nostra città. Ci è sembrato giusto e corretto esserci, in più la prossima settimana quando riprenderemo ad andare in ufficio manderemo ai nostri circa 3.000 soci una mail dove pregheremo di fare la stessa cosa sullo stesso conto corrente. Assessore, una donazione importante a favore delle persone in difficoltà? Io ringrazio l'ente carnevalesca perché comunque dà un bel segnale, un segnale che devo dire la verità dimostra ancora una volta come altre associazioni che c'è una comunità solidale a Fano, chi di solito si occupa del divertimento e chi si occupa anche di rendere più, diciamo, per sollevare anche la qualità della vita e per dare anche un'impronta culturale di identità perché il carnevale comunque a Fano esprime anche l'identità della nostra città, credo sia un bel segnale e vuol dire di attenzione anche in un momento come questo per chi davvero ha più bisogno. Quindi noi accogliamo ben volentieri questa donazione e insieme alle altre esprimo appunto un segnale di forte attenzione per queste tematiche perché oggi davvero sempre di più entriamo e stiamo entrando in un'emergenza che finita quella sanitaria spero poterne essere fuori il prima possibile sempre senza mai abbassare comunque la guardia perché quello è importantissimo però davvero a fronte dovremo rivedere molte delle cose per rimodulare anche gli interventi nel sociale.